Immaginate un'economia in cui c'è sacrificio, c'è lavoro, c'è dispendio di energie, di forze, di tempo, ma non c'è consumo, ma non c'è godimento del frutto del lavoro, del frutto dello sforzo. Questo ovviamente è un'economia in cui nessuno vorrebbe vivere, un'economia dello sfruttamento più puro, della povertà più pura. Ecco, esiste un elemento in macroeconomia che spinge i sistemi economici verso questa situazione. Questo si chiama esportazione netta. Allora, cos'è l'esportazione netta? L'esportazione netta è produzione a cui un sistema economico rinuncia, produzione che si manda via e per cui non si riceve niente in cambio, in termini reali. Quindi più un paese realizza esportazioni nette, più si allontana dal, diciamo, lo standard di vita, il tenore di vita che può assicurare alla sua popolazione, più si avvicina alla povertà. Qualcuno potrebbe dire, ma no, ma se si fa esport netto si sta semplicemente rinviando il consumo, perché si aumenta la ricchezza finanziaria del settore privato, aumentano i soldi che girano nelle tasche del settore privato. Il fatto che il consumo nel futuro non dipende da quanti soldi in aggregato, da quante attività finanziarie, da quante registrazioni contabili vi siano su un territorio, ma dipende dalla capacità produttiva che si ha nel futuro. E il fatto di rinunciare a consumare oggi non aumenta in alcun modo la tua capacità di produzione, di produrre domani. Quindi in realtà in termini finanziari non si può risparmiare in aggregato. Se il mondo nel 2020 avesse il quadruplo di soldi, non potrebbe consumare il quadruplo, perché il suo consumo nel 2020 dipenderebbe dalla produzione che può fare nel 2020. Quindi un sistema economico, nel momento in cui rinuncia alla propria produzione per realizzare delle esportazioni nette, semplicemente sta rinunciando a godere dei frutti del suo sforzo. La cosa particolare è che nel contesto dell'eurozona, in cui c'è l'austerità che fa crollare i consumi, fa crollare la domanda interna, l'export sta diventando una delle uniche vie per vendere, una delle uniche vie per lavorare. E quindi siamo nella situazione in cui l'unica via per mantenere l'occupazione in eurozona è la privazione. L'unica via per non essere disoccupati è rinunciare al frutto del proprio lavoro. Questo è un elemento macroeconomico, che spesso e volentieri non viene catturato dalla concezione comune. Ed è un elemento che poi ricade sulle persone, sulle aziende, le fattispecie microeconomiche, ma ha un'origine macro. Quello che vi sto dicendo è che con queste politiche d'austerità e con questo approccio export-led, l'Unione Europea sta promuovendo un'economia della privazione, un'economia in cui i paesi diventano in conflitto tra di loro, invece che poter essere in una sorta di cooperazione tra di loro. Il commercio internazionale diventa un modo per buttare la disoccupazione all'estero, invece che essere un modo per scambiarsi beni e servizi e vantaggi reciproci.